ciao ragazzi non chiedetemi perché faccio questo video in casa con la giacca semplicemente sono rientrato adesso e dalla fretta nel voler fare il video non ho avuto il tempo di togliermi il giubbotto allora perché molti di noi in bagno si trovano col terreno spesso appiccicoso sono delle zone appiccicose ecco svelato il mistero in bagno molto spesso si usano i deodoranti spray e poi soprattutto nell'ultimo periodo magari qualcuno per disinfettare le mascherine anche lì usa lo spray igienizzante tutti questi spray anche la lacca a volte per i capelli vengono diffusi nell'aria e questa diffusione arriva a destinazione ma un po' casca anche per terra ecco perché molti di noi spesso in bagno hanno delle zone un po' piccicose quindi mi raccomando lavare sempre il pavimento ciao